Ora cominciamo dalla riete. Siete individui efficienti, ma è probabile che oggi deciderete di farvi da parte e lasciare che siano gli altri a comandare e ad accollarsi il lavoro più faticoso. Toro, sarete molto sotto pressione oggi, ma troverete il tempo e il modo per concedervi qualche momento di puro piacere. Se siete singoli avrete l'occasione di vivere un bel flirt, se siete in coppia la serata sarà decisamente bollente. Gemelli, oggi sembrerete emanare una sorta di energia positiva che attirerà nella vostra orbita una quantità di persone. È il momento ideale per avviare un nuovo progetto, per esempio. Cancro, questo è un buon momento per tentare di allargare la vostra sfera di influenza. Ne trarrete dei privilegi che vi daranno un grande vantaggio rispetto ai vostri avversari. Bene le cose per quanto riguarda l'amore. Leone, è tempo di stabilire una stretta collaborazione con le persone che vivono al vostro fianco. Anche sul lavoro avete bisogno di più collaborazione con i colleghi, altrimenti qualcuno potrebbe avere qualcosa da dire contro di voi. Vergine, riuscirete a gestire le vostre paure senza che gli altri si accorgano di niente oggi. Fate attenzione sul lavoro ad essere più precisi o avrete sempre il vostro capo col fiato sul collo. Bilancia, non siete obbligati ad effettuare immediatamente certi cambiamenti, ma almeno dovreste iniziare a pensarci. Per quelli che hanno un partner, essere in coppia vuol dire anche questo, parlare di cose che riguarderanno magari un futuro insieme. Scorpione, volendo potreste essere in grado di mantenere i contatti con gli altri oggi, ma il fatto è che potreste preferire starvene per conto vostro lontani da tutti. Sagittario, nei vostri tentativi di spiegare ciò che è inspiegabile, potreste rendere il mistero più complicato di quanto già non sia. Fate attenzione anche alle virgole perché altrimenti non ne uscirete vivi. Capricorno, fareste bene a mettere una certa energia in tutto ciò che intraprenderete oggi, ma senza un piano d'azione preciso rischierete di sprecare le vostre forze. Non pensate poi che sia uno sbaglio o una debolezza chiedere aiuto a un collega. Acquario, una nuova fase è iniziata, ma voi potreste non accorgervi delle molte opportunità che vi offre, se non quando non ve ne sarete lasciate sfuggire uno o due. Potrebbero essere importanti per il vostro futuro lavorativo e non solo. Pesci, rimarrete incastrati in una serie di noiose attività mondane e la colpa sarà soltanto vostra. Semplificate la vostra giornata, economizzate le forze e poi potrete godervi la serata come meglio preferite. Grazie. 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 Grazie.